Ne approfittiamo anche per rifare la scala mobile a Montesanto che è bloccata da tempo immemorabile, non è nostra competenza, ma dovendo fare questo intervento ne approfittiamo per investire anche altri 6 milioni di euro e realizzare questa bella scala mobile un anno, un anno poco più di tempo e avremo un bellissimo impianto. La stazione di Montesanto di investimento è di 18 milioni, 14 per fare tutto il sistema di sicurezza, antincendio ed uscite varie nuovo, per fare una uscita sul lato destro che consentirà ai passeggeri che vogliono prendere dopo la Cumana la metropolitana delle periodi dello Stato di andare direttamente a prendere la metropolitana con scala mobile e poi di questi 18, 4 sono destinati alle scale di Montesanto. Scala Paradiso, molto care al quartiere di Montesanto, bloccate e quindi in uno stato di vandalismo oramai da 15 anni, siamo subentrati nell'affalto l'anno scorso, contiamo di aprire il cantiere in questi giorni, praticamente aperto e di chiudere i lavori nei 18 mesi. Sarà un'opera architettonica molto bella, molto esteticamente bella, anche sicura perché verrà chiusa di notte per i problemi che il nostro territorio purtroppo racconta e quindi mi sembra un'iniziativa importante.